a mi piace con lei della flora in altre città d'europa tenerla da dietro e smanfare l'aroma mentre cucina qualcosa di appetitoso bere guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona è la via di Carlito ma con un lieto fine come andare in paradisi ma senza morire è una rosa senza spine le regge negative tra i tuoi amici ci sono delle spie alla faccia di chi lo va a dire uh ah willy willy ah neri 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 casini casini problemi fammi un applauso con i piedi ora che sono ancora in piedi qua non ti ascoltano quando hai sete ti stanno addosso quando bevi habibi 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 scusa brus la sosa mamma se ma mamma cosa quando torno tardi tu sei la mia scusa tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa volevo fare il pilota stare in alta quota ma in questi anni di volo non voglio stare da solo e quindi hostess sono qui si non lasciarmi così no davanti a tutti così tu da sempre sei il mio sogno lucido ho da sempre voluto il tuo numero che tu fossi la mia babysitter che tu fossi la prof di recupero sono settimane che ti provo a chiamare fai la presa male posti foto col cane scrivi e dici che è il tuo unico amore così non vale baby così non vale non si fa così ah willy willy ah meri meri non problemi fammi un applauso con i piedi ora che sono ancora in piedi qua non ti ascoltan quando i sete ti stanno addosso quando bevi habibi 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... 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 e viene fuori da l'ultimo e questo sarà un throw Kyle Walker Leroy Sane in è goes for the challenge Raul e è Lozano e hanno avuto il gioco in mezzo con un po' di pressione per l'ultimo per l'ultimo per l'intercettio due more minutes per l'intercettio per l'intercettio che è un free kick ora Ferdinio Leroy Sane Raul Leroy Sane Sane Robinho great place to win it back Robinho well marked but not so well marked to stop the shot and off we go for the second half of this weekend league match Obama Yang patience is the name of the game at the moment Frank Reichard now Havisala Lukaku poor attempt at a pass really he's got the ball now Raikard able to cut that out with some sharp movement Robinho now here's a chance to get at the opposition Mohamed Salah Lukaku shots on here he is the powerhouse in front of goal Romelu Lukaku they couldn't stop him it is level both sides have scored here now that's great defending there stopping that attack Mohamed Salah Robinho oh he's good at cutting those passes out in the middle of the park now Fernandinho Robinho just read the intentions of the opposition there to make the interception well they're having to defend aren't they so he's come deep and he's got hold of the ball and they can build off him very important piece of defending with the interception there Joao Cancelo good width in the attack here looking for a cross at the end of it they've soaked up a lot of danger here but it hasn't hurt them and now they're on the ball De Rossi he's got his shot off now and that is quite a wild effort at goal although he got good contact on the ball and it is now Raul Daniele De Rossi this might be it oh they've got out of jail there it's Salah now maybe just missed kicked it a little bit there and pass goes straight to the opposition Velotti it's a good way to nick the ball back quick thinking Daniele De Rossi in quickly Fernandinho Aubameyang Sane Lukaku with some potential in this move another shot that's a straightforward effort really for the goalkeeper catching practice it's Salah now Fabinho Mohamed Salah Fernandinho well he's got support here Jordi Alba he's going to try it and that's an excellent goal they're in front now I'm going to try it again go 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti